Uccidete ciò che vi è caro, le vostre cotte, la vostra giovanile metafisica, niente di questo appartiene alla pagina. È il primo principio di un buon lavoro creativo, un'opera di fantasia che voi consegnerete come ultimo esame. Guardate, Whitman Junior ci ha graziato della sua presenza oggi. La nuova visione. Uomini straordinari ci sospingono in avanti. È nostro dovere infrangere la legge. Fantastico! C'è più vita in quelle cinque pagine che nelle dozzine di scadenti sonetti che abbiamo letto in questa classe. Tu vuoi la vita? Vuoi che il mondo vada in fiamme? La guerra attende. Che cosa ne verrà?